Francesco Cossiga nasce a Sassari il 26 luglio del 1928 da una famiglia borghese, repubblicana e antifascista. Curiosità, nonostante il suo cognome sia sempre stato pronunciato Cossiga, la pronuncia originaria è in realtà Cossiga, che in dialetto sassarese significa Corsica e indica la probabile provenienza della famiglia. A soli 16 anni si diploma al liceo classico, l'anno successivo si iscrive alla democrazia cristiana e a 19 anni e mezzo si laurea in giurisprudenza, iniziando una carriera universitaria che gli varrà in seguito la cattedra di diritto costituzionale regionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari. A 28 anni è segretario provinciale della DC e due anni dopo, nel 1958, entra a Montecitorio. Diventa il più giovane sottosegretario alla difesa nel terzo governo guidato da Aldo Moro, il più giovane ministro dell'interno fino a quel momento, nel 1976 a 48 anni, il più giovane presidente del Consiglio sempre fino a quel momento, nel 1979 a 51 anni. Inoltre è anche il più giovane presidente del Senato nel 1983 all'età di 51 anni e il più giovane presidente della Repubblica nel 1985 a 57 anni. Negli anni 70, i cosiddetti anni di piombo, Cossiga è il numero uno dell'estrema sinistra, ma il fallimento delle trattative per la liberazione di Aldo Moro, sequestrato dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978 e ucciso dopo 55 giorni, lo costringono alle dimissioni. Alcuni accusano Cossiga di inefficienza, mentre altri sospettano che l'obiettivo di Cossiga non fosse affatto quello di ottenere la liberazione dell'ostaggio. Cossiga si difenderà sempre, con grande tenacia, da queste pesantissime accuse. Presidente del Consiglio nel 1979, il suo governo cade nel 1980 per un solo voto a causa dei franchi tiratori dell'ADC, che bocciano il suo decretone economico, che avrebbe, tra le altre cose, dato il via libera all'accordo tra Nissan e Alfa Romeo. Un grande giornale titola, ironico, aperte virgolette, Fiat Voluntas Tua, chiuso le virgolette, alludendo alla soddisfazione dell'industria automobilistica di Torino per il mancato sbarco in Italia dei giapponesi. Dopo aver passato qualche anno nell'ombra, nel 1985 Cossiga viene eletto Presidente della Repubblica Italiana, con una maggioranza record, ben 752 voti su 977 votanti. Votato dall'ADC, dal PSI, dal PCI, dal PRI, dal PLI, dal PSDI, cioè il Partito Socialdemocratico Italiano, e dalla Sinistra Indipendente. Ricopre per cinque anni il ruolo di Presidente in modo discreto e pignolo nell'attenersi alla Costituzione, per poi cambiare stile nel 1990, rendendosi protagonista di attacchi al CSM, cioè il Consiglio Superiore della Magistratura, alla Corte Costituzionale e al Sistema dei Partiti, azioni che gli varranno il soprannome di Picconatore. Cossiga sollecita una grande riforma dello Stato e se la prende anche con singoli esponenti politici, tanto che in molti mettono in dubbio la sua sanità mentale. Nel 1990 Giulio Andreotti rivela l'esistenza di Gladio, un'organizzazione paramilitare segreta promossa dalla Nato e dalla CIA per fronteggiare un'eventuale invasione sovietica dell'Europa. Cossiga, che durante il periodo in cui era sottosegretario alla difesa aveva la delega alla sovrintendenza di Gladio, e che spesso è anche indicato come uno dei fondatori, si sente tradito dagli esponenti del suo stesso partito e li attacca con forza. Il PDS, cioè il Partito Democratico della Sinistra, avvia la procedura di impeachment, ma Cossiga decide di uscire di scena volontariamente. Attende le elezioni del 1992 e poi si dimette con un discorso televisivo di 45 minuti. Pochi mesi dopo si assisterà al crollo del sistema politico che lui criticava da due anni. Cossiga torna in scena a sorpresa nell'autunno del 1998, al momento della crisi del governo Prodi. Fonda il partito denominato UDR, Unione Democratica per la Repubblica, ed ha un sostegno decisivo alla nascita del governo di Massimo D'Alema, primo presidente del Consiglio a provenire dalle file dell'ex PC. Per l'occasione Cossiga regala ad Alema un bambino di zucchero, ironizzando sul luogo comune delle usanze cannibalistiche dei comunisti. L'idillio però dura poco. Dopo meno di un anno, infatti, l'UDR si scioglie e larga parte dei suoi iscritti confluisce in un nuovo soggetto politico creato da Clemente Mastella, l'Udeur, Unione Democratica per l'Europa, cui Cossiga aderisce senza convinzione. Alle elezioni del 2001 Cossiga darà il suo appoggio a Silvio Berlusconi, anche se in Senato non voterà poi la fiducia. Il 6 novembre del 2003 Cossiga fuoriesce dall'Udeo e abbandona il gruppo misto al Senato per iscriversi al gruppo per le autonomie. Un velocissimo accenno alla sua vita privata. Nel 1960 si sposa con Giuseppa Sigurani, che vediamo in questa immagine, una donna di carattere particolarmente schivo che non condurrà mai una vita pubblica. Il matrimonio si conclude con una separazione nel 1993 che porterà al divorzio cinque anni dopo. Avranno due figli, Anna Maria e Giuseppe. Francesco Cossiga muore a Roma il 17 agosto del 2010. Molto bene, prima di passare alle citazioni vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo dando un'occhiata ai miei libri, li trovate tutti su Amazon e vi un link in descrizione. Anche noi italiani siamo ben lieti che Carla Bruni non sia più italiana, anzi siamo addirittura felici. Chissà che un giorno Carla Bruni non sia costretta dalla sua burrascosa vita a richiedere la cittadinanza italiana. Questa frase la pronuncia in merito alla strage di Ustica. C'era un aereo francese che si mise sotto il 19 Italia e lanciò un missile per sbaglio. Con queste parole si riferisce a Salman Rushdie. Ho un gran rispetto per tutte le religioni e credo che la libertà di coscienza debba trovare un limite nel rispetto dell'altro. Quindi non si scherza con nostro Signore Gesù Cristo e nemmeno con Maometto, per intenderci. Sempre con riferimento a Salman Rushdie dirà il diritto alla libertà d'espressione deve essere riconosciuto, soprattutto agli imbecilli. L'Italia è sempre stato un paese incompiuto. Il risorgimento incompleto, la vittoria mutilata, la resistenza tradita, la costituzione inattuata, la democrazia incompiuta. Il paradigma culturale dell'imperfezione genetica lega con un filo forte la storia dello sviluppo politico dell'Italia unita. Non accetto lezioni di etica politica dalla Bindi. È brutta, cattiva e cretina. Questa frase la pronuncia su Beatrice Borromeo. Prego sulla tomba degli zii, i cardinali Carlo e Federico Borromeo, perché salvino dalla stupidità la nipote. Non parli e faccia la bella statuina. Rovinerò Bossi facendogli trovare la sua automobile imbottita di droga. Lo incastrerò. E quanto ai cittadini che votano per la Lega li farò pentire. Nelle località che più simpatizzano per il vostro movimento aumenteremo gli agenti della Guardia di Finanza e della Polizia. Anzi, li aumenteremo in proporzione al voto registrato. I negozianti e i piccoli e grossi imprenditori che vi aiutano verranno passati al setaccio. Manderemo a controllare i loro registri fiscali e le loro partite IVA. Non li lasceremo in pace un momento. Tutta questa pagliacciata della Lega deve finire. Queste frasi sono riferite agli attentati dell'11 settembre 2001. Si ripresentano anche in questo caso le tesi complottistiche, che vorrebbero attribuire il devastante attacco terroristico a dipartimenti o agenzie di intelligence dell'amministrazione degli Stati Uniti, motivato dalla volontà di creare l'occasione per una offensiva contro l'Islam. Il complottismo è una teorica storico-ideologica volta a negare la realtà pura e semplice per evitare le conseguenze di un fatto, ed in questo caso il pericolo di una guerra di civiltà, e a negare la realtà di un pericolo attuale, quello di una guerra contro gli ebrei e i crociati, cioè l'Occidente cristiano e liberale. Rifiuto la teorica complottista, che è unabile e talvolta sincera contraffazione della realtà per il timore di essa. Moro sarebbe stato rapito dalle cosiddette Brigate Rosse, strumento della CIA o del KGB o della P2 o del priorato di Sion. Stalin non è morto per un ictus ma è stato fatto avvelenare da Beria, e secondo le ultime rivelazioni dell'ultimo capo del KGB sovietico, autore del tentativo di colpo di stato contro il presidente Gorbachev, questi e Yeltsin sarebbero stati in realtà agenti della CIA. Ricordando quanto aperta sia la società americana, mi sembra improbabile, anzi impossibile, che l'11 settembre sia stato frutto di un complotto americano. Anche perché la guerra che ne è derivata sta portando alla sconfitta degli Stati Uniti in Iraq, in Afghanistan e nel Medio Oriente. È alla pericolosa, quasi sconfitta di Israele nei confronti degli Hezbollah, ma in realtà della Siria e soprattutto dell'Iran. Travaglio è uno sporco fascista di destra. Nel 1993 in Italia c'è stata una rivoluzione inutile, anzi un colpo di stato. Purtroppo la DC non capì o sottovalutò la situazione, impegnata com'era a dare giudizi sul mio presunto stato mentale. Oggi direi che Di Pietro potrebbe essere un bravo dirigente di squadra mobile, uno di quelli a cui si perdonano certi eccessi. Quanto alla morale, se io alla sua età, quando ero sottosegretario alla difesa, avessi accettato denaro dagli amici, cosa mi sarebbe successo? La battaglia contro la magistratura è stata perduta quando abbiamo abrogato le immunità parlamentari che esistono in tutto il mondo e quando Mastella, da me avvertito, si è abbassato i pantaloni scrivendo sotto dettatura di quell'associazione tra sovversiva e di stampo mafioso che è l'Associazione Nazionale Magistrati. Quando con il PC di Berlinguer ho optato per la linea della fermezza, ero certo e consapevole che, salvo un miracolo, avevamo condannato Moro a morte. Altri si sono scoperti trattativisti in seguito. La famiglia Moro poi se l'è presa solo con me, mai con i comunisti. Il punto è che, a differenza di molti cattolici sociali, convinti che lo Stato sia una sovrastruttura della società civile, io ero e resto convinto che lo Stato sia un valore. Per Moro non era così. La dignità dello Stato, come ha scritto, non valeva l'interesse del suo nipotino Luca. I padri di Gladio sono stati Aldo Moro, Paolo Emilio Tabiani, Gaetano Martino e i generali Musco e De Lorenzo, capi del Sifar. Io ero un piccolo amministratore, anche se mi sono fatto insegnare a usare il plastico. Era il 1974, io ero da poco ministro. Passeggiavo per Roma con il collega Adolfo Sarti, quando incontrai Roberto Gervaso, che ci invitò a cena per conoscere un personaggio interessante. Era lui, Silvio Berlusconi. Parlò per tutta la sera dei suoi progetti, Milano 2 e Publitaria. Non ho mai votato per Berlusconi, ma da allora siamo stati sempre amici e sarò testimone al matrimonio di sua figlia Barbara. Certo, poteva fare a meno di far ammazzare Caio Giulio Cesare e Abramo Lincoln. Beltroni è un perfetto Doroteo, parla molto e bene, senza dire nulla. Queste frasi le pronuncia in risposta alla domanda perché le piace tanto D'Alema? Perché, come me, per attaccare i manifesti elettorali è andato in giro nottetempo con il secchio di colla di farina a far botte. Perché è un comunista nazionale e democratico, un berlingueriano di ferro e quindi un quasi a fine mio, non della mia bella nipote bianca berlinguer che invece è bella, brava e veltroniana. E poi è uno coi coglioni, antigiustizialista vero e per questo minacciato dalla magistratura. Di Pietro dice che è tornata a Tangentopoli? Lui è un famoso cretino e gli voglio molto bene perché voglio bene ai cretini e lui è sempre più cretino. Però ora sta diventando presuntuoso, crede di essere diventato anche un politico. Ha aumentato i consensi? Quando dissero a Churchill che c'erano cretini in Parlamento, lui rispose, aperte virgolette, meno male è la prova che siamo una democrazia rappresentativa, chiuso le virgolette. Vuol dire che i cretini in Italia, cioè quelli che votano l'Italia dei disvalori, è bene che emergano. Queste frasi le pronuncia commentando le proteste degli studenti universitari. Maroni dovrebbe fare quel che feci io quando ero ministro dell'interno. In primo luogo lasciare perdere gli studenti dei licei, perché pensi a cosa succederebbe se un ragazzino rimanesse ucciso o gravemente ferito. Lasciarli fare. Ritirare le forze di polizia dalle strade e dalle università, infiltrare il movimento con agenti provocatori pronti a tutto, e lasciare che per una decina di giorni i manifestanti devastino i negozi, diano fuoco alle macchine e mettano a ferro e fuoco le città. Dopodiché, forti del consenso popolare, il suono delle sirene delle ambulanze dovrà sovrastare quello delle auto di polizia e carabinieri. Nel senso che le forze dell'ordine non dovrebbero avere pietà e mandarli tutti in ospedale. Non arrestarli, che tanto poi i magistrati li rimetterebbero subito in libertà, ma picchiarli e picchiare anche quei docenti che li fomentano, soprattutto i docenti. Non dico quelli anziani, certo, ma le maestre ragazzine sì. Si rende conto della gravità di quello che sta succedendo? Ci sono insegnanti che indottrinano i bambini e li portano in piazza, un atteggiamento criminale. Molto bene, questo è tutto per quanto riguarda questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato a Francesco Cossiga. Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e, se volete sostenerlo, il canale potete farlo dando un'occhiata ai miei libri, li trovate tutti su Amazon e vi lascio un link in descrizione. Ciao a tutti e alla prossima!